Ragazzi, oggi è una bella giornata e stiamo all'aperto. E le domandine sono facili, facili. Vediamo un po' Giordano. Tu ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Se mi date i braccioli, sì. Se mi studiano un altro poco, figliamini. E tu Borrelli, ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Sono se mettete il trampolino, a così faccio il capriolo. Sì, ad assieme, mi raccomando, mi maio. E tu, ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Assolutamente no. Bravo, pigliate esempio. E perché non ti butteresti? Diglielo. Perché non sa ci nuotare.